Sì, sono molto contento per i gol e soprattutto per la vittoria perché arriva in un momento molto importante per noi e soprattutto perché ci servivano questi tre punti fuori casa su un campo che sapevamo che era molto difficile. Vittoria sotto l'acqua con un campo non nelle sue migliori condizioni, una vittoria ancora difficile e più pesante in termini anche di classifica. Sì, è stata una partita molto difficile perché c'era un campo ai limiti della praticabilità però sono stati gravi a lottare e a crederci fino alla fine.